Qualche giorno fa, presso la sede della SAT Arcense, si è tenuto un incontro tra la società, il club alpino italiano e Bike Garda Trentino, l'associazione nata a fine 2015 allo scopo di rendersi interprete con enti, comuni, associazioni sportive e addetti alle esigenze dei bikers. Diversi gli argomenti trattati, dai divietti alla fruizione dei sentieri, alla loro manutenzione, al perché sia necessario inibire il passaggio delle due ruote e dove si cercheranno alternative per le mountain bike. Siamo qui a condividere idee e progetti, ha detto Massimo Amistadi, neo-presidente della SAT di Arco, solo per il bene del territorio. Ragioniamo sul futuro e sul carico che il Garda Trentino potrà sopportare ancora, poi confrontiamoci sui sentieri, la legge, le mappe del territorio, i percorsi stessi che, se affrontati con il massimo buonsenso, farebbero evitare tanti problemi. Desideriamo ragionare con voi, volontari che siete sul territorio da molti più anni di noi, ai quali riconosciamo l'assoluto valore che portate avanti, ha commentato Silvio Rigatti di Bike Garda Trentino. Soluzioni condivisibili sono necessarie, approntare una rete dei sentieri è la priorità per dare ai nostri residenti, e soprattutto agli ospiti, le risposte che da troppi anni si attendono. Dove e come pedalare senza problemi, ha concluso Silvio Rigatti di Bike Garda Trentino.